E' scritto a parlare il senatore Pazzaglini per sei minuti. Prego, senatore Pazzaglini. Grazie, Presidente. Governo, colleghi, la discussione odierna verte sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. In sostanza è un atto che ipotizza quello che sarà lo scenario economico-finanziario dei prossimi anni. In esso si ipotizza che, tramite un aumento di diverse percentuali ripartite nei vari anni, nel 2024 si arriverà a scongiurare l'effetto negativo della pandemia. Quindi, qualora lo scenario futuro si rivelasse quello più positivo tra quelli prospettati, nel 2024 arriveremmo ad aver superato appieno quello che è stato l'effetto negativo della pandemia. Un intento dichiarato in questo atto è quello che la politica di bilancio rimanga espansiva fino a che non avremo appunto superato la crisi, dopodiché diventi restrittiva, virtuosa, in un certo senso, finalizzata alla riduzione del debito pubblico. Un altro obiettivo dichiarato è quello di conseguire surplus di bilancio adeguati al raggiungimento del poc'anzi espresso obiettivo, cioè la riduzione appunto del debito pubblico. E questo potrebbe avvenire solo in presenza di un surplus di bilancio. Come arrivare a questo surplus? Le strade indicate sono sostanzialmente due. La prima, la riduzione della spesa pubblica. E qui una considerazione personale. Tutto quello che ho detto fino ad ora ovviamente lo condivido, perché si tratta appunto di applicare una politica espansiva e virtuosa. Quindi non ho assolutamente nessun rilievo su tutto questo. È il secondo invece dei modi indicati, la seconda strada ipotizzata per il raggiungimento del surplus, che qualche dubbio me lo suscita, perché è previsto espressamente che si debba lottare l'evasione per arrivare ad un aumento del gettito per l'erario. Allora, evidentemente io condivido l'obiettivo di combattere l'evasione. Questo perché in questo modo si può raggiungere un sistema più equo, ripartendo le tasse su tutti, evidentemente appunto il sistema è più equo. Ma si raggiunge anche una maggiore competitività per il sistema, perché non falsato dalla concorrenza sleale di chi non paga le tasse, evidentemente chi produce ne ottiene un beneficio. Quello che non condivido è che questa lotta all'evasione, questo risultato, debba essere perseguito per l'aumento del gettito. Io su questo non sono d'accordo, perché a mio avviso l'aumento, il combattimento dell'evasione fiscale invece deve essere perseguito per ridurre le tasse, perché è dimostrato che riducendo le tasse non solo si genera un effetto positivo per l'economia, che poi comunque come conseguenza ulteriore porta anche a un aumento del gettito. Questo lo dice la teoria. I nostri avi saggiamente dicevano che il buon pastore tosa la pecora e non la scortica, perché in questo modo rimane viva, produttiva e in salute, mentre invece appunto scorticandola ottieni un risultato maggiore subito, ma poi non ottieni più nulla. Questa teoria popolare fu poi ipotizzata in maniera più scientifica da Laffer, che nella sua curva dimostrò in maniera, a mio avviso, inequivocabile, come un aumento del gettito superato il livello impositivo ottimale di tasse porta a una riduzione del gettito, arrivando paradossalmente ad introito zero per l'erario nel caso di tasse al 100%, perché evidentemente non lavorerebbe più nessuno appunto per pagare solo le tasse. Ma queste due teorie appunto di saggezza popolare o teorie economiche hanno poi avuto anche applicazioni concrete, perché Ronald Reagan, appena eletto presidente, nel 1982, in attuazione appunto della politica economica di Laffer, ridusse le tasse, ottenendo non solo un boom economico per gli Stati Uniti, di cui abbiamo tutti conoscenza storica, ma ottenendo anche contestualmente un aumento del gettito per l'erario, perché in dieci anni si passò dai circa 600 miliardi del 1982 ai 2.000 miliardi del 1990, più del triplo di gettito diminuendo le tasse. Ma non bisogna andare tanto lontano nel tempo o nel luogo per trovare esempi simili, perché rimanendo in Italia, basta vedere quello che è successo quando è stata introdotta la cedolare secca. La ragioneria dello Stato sosteneva che non potevamo permetterci quella manovra perché avrebbe ridotto il gettito, invece la conseguenza è stata che il gettito è aumentato, perché a quel punto i contratti sono stati registrati tutti. Ma se volessimo indicare un esempio al contrario, non dovremmo far altro che pensare a quello che è successo quando è stato introdotto il Superbollo. Nel 2006, in pieno furore ideologico della sinistra, che doveva far piangere i ricchi, vi ricordate i manifesti, anche i ricchi devono piangere, fu introdotto di nuovo il Superbollo. Il risultato è che il gettito da quella voce passò dai 340 milioni del 2006 agli attuali 150 milioni circa, quindi meno della metà aumentando le tasse. Perciò, dimostrato che aumentare le tasse non porta maggior gettito, ma al contrario, la strada che indichiamo noi è quella opposta. Stesso risultato, ma strada opposta. Ma è una strada percorribile, è una strada che getta le basi per fondamenta solide. Fondamenta di cui adesso abbiamo bisogno, perché dopo il Covid un altro virus sta per arrivare a livello mondiale dalla Cina. In questo caso si chiama Evergrande, che è un colosso immobiliare che genera tra diretto e indotto 3 milioni e 800 mila posti di lavoro, che ha 305 miliardi di debiti e che la settimana scorsa non è riuscita a rimborsare pochi milioni di debito. Per pochi milioni di debito si è dovuta far aiutare dallo Stato cinese. Io ho memoria di quello che è successo nel 2007 allo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti. Era il mio lavoro, ma nel momento in cui dovessi dire Lehman Brothers, penso che chiunque qui dentro ricorderebbe quello che è successo. E paradossalmente noi siamo in una situazione anche peggiore, perché siamo in un momento di shock energetico, siamo in una crisi delle materie prime, siamo in una crisi inflazionistica. Io in passato ho auspicato un'inflazione controllata per ridurre il valore sostanziale del debito pubblico, ma questa rischia di essere una crisi inflazionistica senza controllo. Quindi questo è il momento di creare basi solide. Ecco perché dobbiamo sì combattere l'inflazione, ma riducendo le tasse e non aumentandole. Purtroppo il mio tempo è finito, auspico che il Governo tenga conto di queste indicazioni.